musica con il tozzo della bundes musica ovviamente ragazzi vi dirò il vincitore del contest appunto nello scorso video nello scorso pack opening scusate in un video prossimo quindi mi raccomando seguiteli tutti e ovviamente ragazzi come sempre vi ricordo che vi faccio in descrizione nella social media shop primo link ragazzi in descrizione codice lazza 15% di sconto su tutte le magliette da calcio quindi ragazzi hanno droppato anche le magliette nuove dei mondiali 2018 quindi andate a vedere che sono tanta tanta roba e se acquistate ragazzi ricordatevi come sempre il codice lazza 15% di sconto dentro questo ragazzi voglio farvi vedere i toz che sono usciti della BPL magari vi metterò una grafica ora e sono tanta tanta roba cioè ragazzi c'è Agüero c'è Salah 98 Eriksen De Bruyne Otamendi Walker De Gea davvero tanta tanta roba però prima di partire ragazzi con il pack opening dove vado ad aprire i pack da 100k voglio lasciarvi una clip che ho fatto l'altro giorno che appunto il toz garantito che tra l'altro ho trovato anche un giocatore vedete dai guardatela ok signori mancano 5 secondi ed escono i pacchetti da 100.000 credit allora ok sono le 20 dai dai 100k packs toz BPL ti prego ti prego e dammi almeno uno almeno uno no 55 pensavo a mettessero i pack da 100k e invece mi hanno fatto uno scherzo quindi penso lo metteranno ora alle 9 però c'è ancora qui 10 pacchetti tra cui c'è anche un pack da 50k in mezzo quindi andiamo a aprire questi 10 pacchetti e speriamo che le EA ci dia un bel toz dai luce blu hashtag luce blu ragazzi nei commenti ha funzionato l'altro giorno invece no ci da un pacchetto secco qui vediamo che cos'è c o c spagnolo bah no garcia 81 che schifo vai con un altro pacchetto oro premium maxi ti prego EA dai una luce blu mi serve solo una ti prego EA ti prego neanche neanche schermi mamma mia che schifo che schifo tedesco e di ah bella rabbi mamma mamma che brutte robe che brutte robe raga che schifo veramente qui scartiamo di EA dai eSports ti prego anche anche il più schifoso dammi anche il più schifoso pack mega skyrmi dammi il più schifoso top che esista ti prego dai 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 ti prego ti prego niente mamma ma che devo fa ok ragazzi qua mandiamo tutto al club come sempre uuuh 5000 crediti ragazzi ho trovato praticamente costano di più i crediti che mi vanno a riscattare che è il contenuto del pacchetto bella vai ora andiamo c'è il pacchetto da 50.000 qui però non voglio andare ad aprire andiamo col pacchetto oro premio facciamo flauto pack madonna non esce niente non esce niente neanche gli schermi portiere italiano che schifo mamma mia ma i tozze li hanno li hanno droppati nei pacchetti almeno siccome si sono scordati e gli di mettere questi qua della bpl mos consistente uscivano ragazzi a valanga qui secondo me veramente lei ha fatto un buco nell'acqua comunque andiamo col pacchetto giocatori zinco rari vediamo se ci dà meno gli schermi il primo schermo di giornata ma figurati figurati se ce lo dà dai che schifo pazzesco schwarz con lo tarocco bella tanto qua i pack promo non li hanno cambiati hanno lasciato sempre quelli da 55.000 comunque ragazzi andiamo dentro che pacchetto giocatori oro prime vai gli esports ti prego ti prego gli esports ti prego gli esports non ci credo io non ci credo regà non ci posso credere non mi sta dando un cavolo di schermo che cazzo ce ne faccio di walkout io ma dai ma che incurata di gioco giocatori oro prime vai coates tu madre coates i figli di dovete fallire come azienda vai pacchetto giocatori zinco prime vediamo se qua mi danno qualcosa almeno wow gli hanno dato gli schermi hanno droppato gli schermi bello la porta in culo di tua madre metto la porta 84 quante costerà 8k questo che sbolo fioi guarda qua 6k ma dai ma chi prende in giro ma chi volete prendere in giro spero che al prossimo anno tutti comprate pes ma lo spero veramente fa schifo come gioco questo fa veramente cagare al cazzo paghi e non ti dai neanche niente guarda che roba ma è pazzesco dai esports quanto mi fai schifo gli esports ultimo pacchetto ragazzi mi sono tenuto quello da 50k facciamo la sto cavolo di negozio dai dai ci abbiamo guardate qua sala ericsson a guerra mi sono so anche la maglietta cavolo questo qua è di de brumi ragazzi ovviamente come vi ricordo come sempre primo link di iscrizione social day shop però ragazzi cioè se mi dà il coso secco boh non so non so veramente se mi dà il coso secco qui guarda bello mi ha dropato una lavagna fammi vedere che cos'è tedesco portiere neuer si figurati farman altro 84 camazzo cansello e vabbè qua scarda tutto va ok ragazzi 5 secondi alle 9 speriamo che ora droppino i pacchetti da 100k ok sono le 9 dai ti prego ti prego ti prego gli esports dammi un bel blu fammi vedere che sono droppato 100k eccoli qui regà calma ce ne sono 45.000 calma regà questi qua tanto possiamo aprirne tipo 6 quindi vai col primo pack da 100k ti prego gli esports blu 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 ti prego blu niente però schermi normali vediamo che cos'è tedesco portiere il farm di nuovo no leno questa volta 85 leno ok mandamolo nel club questo forse ce l'ho già non mi ricordo esattamente no non ce l'ho ok danielos cosciani carvalho ok un po' di giocatori per l'SBC quando si decideranno metterle magari qua comunque niente qua scordiamo tutto non ci serve assolutamente nulla 36 pacchetti quindi vanno via più o meno velocemente quindi ragazzi usciamo dal negozio rientriamo nel negozio per scaramanzia non si sa mai signori altro pack da 100k dai bello world dai niente lucella blu porca miseria regà voglio hashtag toz nei commenti altrimenti non mi esce niente comunque mi ha dato samir andavano dice che comunque è un workout 88 ovviamente ragazzi la versione upgrade click navas l'ana begovic vabbè 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 83 83 80 ok buoni questi qua inviamolo alice asserimenti sta roba lo scelso perché ragazzi se non lo sapete lo scelso mi piace davvero un casino come giocatore comunque ragazzi andiamo dentro con l'altro pacchetto ce ne mancano con questo altri tre ti prego gli sport ti prego 1 blu 1 blu 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 niente ma porca vacca oh che schifo cos'è olandese cc strutmo 84 cosa gli costa darmi un pacchetto con un tozzo all'interno uno ne chiedo uno a pastore summer con steel corona ti prego faccio il pacchetto col flauto guardate non c'è un cazzo su sti pack però italino dc guardate guardate la bocca con 88 potete darmi 88 magari tozza anche il portiere più schifoso quello 87 la mamma mia magari poi esce tozza e non la dare a manmango per sogno dunque immobile mettiamo solo immobile vale gli trasferimenti qua scartiamo tutto ultimi due pacchetti ragazzi eh si ultimi due pacchetti vai apriamoci un pack da prime va 600 FIFA points li mandiamo a quel paese dai 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 più secco di home questo vai un altro pacco da 600 ci sta ragazzi intanto ci sarà un altro pacco secco ma non ce ne importa giusto per spendere un po' di soldi ragazzi eccolo qui bello mi piace davvero molto sto pacchetto di me tanzini e basta ultimi due pacchetti ne mancano 3000 vai 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 cazzo me l'ho sorpreso davvero la leggera qui vai 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 oh ah il cazzo no if ho visto la luce troppo bianca non so tedesco att che schifo chi è peters86 mamma mia quanto costerà vabbè dopo guardiamo non c'è tempo fai aprire l'ultimo ti prego fammi aprire l'ultimo ti prego l'ultimo 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 fai aprire l'ultimo no 2.000 final points ci sono rimasti vabbè ragazzi mi lascio con 2.000 final points magari li aprirò nel corso di questi giorni e sicuramente scuola ve lo porterò come la clip che ho fatto vedere prima melanie quindi ragazzi questo video finisce qui io spero vi sia piaciuto ragazzi come state lasciate un bel pollicino cercare di raggiungere i 3.000 likes sotto questo video se volete vedere il pacco anche settimana prossima con i toz della bunda se non mi sbaglio seguitemi su instagram installate con due affinanti altra campagna i suoi canali se non me lo ha fatto più ragazzi buona questo video è tutto bene